Voglio dire senza polemica il Presidente della Regione Campania, De Luca, che ieri parlava di questa giornata con una passeggiata del Governo. Presidente De Luca, che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati, avremmo sicuramente una politica più rispettata da parte dei nostri cittadini. Quindi continueremo a passeggiare, continueremo a passeggiare e a portare risposte perché è quello che fa una politica seria. Faremo di Caivano un modello per la nazione intera, dimostreremo che si poteva fare, esporteremo quel modello.